comunque mi devo aumentare e ricordami il corso della corsa visto che mi finisce subito la stamina buona oh che cazzo mi ha messo la cosa qua davanti che non posso uscire porco due porco ah da qua dovevo andare io ciao non scegliere più scasso di ammazzato aspetta non si può uscire allora questa mi sta zocco Samara 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 ma la devo intrappolare qua dentro ora pronti da cazzo vado non me la tira la leva non mi tiro la leva che cazzo faccio ah 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 what the fuck ora si sente sfondare la porta ora si sente sfondare la porta ora si sente sfondare la porta no qua dove sono ora si sente sfondare la porta oh 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 Grazie a tutti. 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 No. No, di nuovo giù mi porta. e mo? speriamo che è finito questo capitolo che è un giallo ci manca tanto a finire il capitolo Rudy come ora il boss? come il boss? porco due porco ancora il boss scusate qua è dove si salvavano frammento controlliamo tutto qua ho lasciato un botto di cose in giro la storia dovrebbe essere tutti chiusi alla posta prima di uscire bisogna controllare se l'abbiamo chiuso tutto vediamo che cosa c'ho non ne posso fare c'è uno solo d'ardo congelante poi c'ho due cecanti e quattro arpioni due bombe a mano cecchino pompa pistola ma su cazzerini mi dobbiamo luttare qualcosa qua mi sa che non c'è niente da luttare non c'è ok ragazza no doc che diavolo ha intenzione di fare provo a salvarci sono serio non mi sembra che lei stia creando un altro mostro non ho tempo per questo detective nemmeno io l'esli è già stato qui ed è tornato è sopravvissuto al legame con rubic l'unico che ce l'abbia fatta a quanto ne so ottimo e questo che cosa c'entra con noi è la via d'uscita detective la sola e unica no funziona no 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 grazie a dio funziona leslie stai bene ma dovevano ma perchè non che cazzo è questo ecco perchè ecco perchè dottore corre vuole quello che vogliamo noi vuole vuole uscire ma mi ha dato il checkpoint allora il boss lo facciamo domani chi cazzo è dove è la porta va a fare quello che deve muovere va a salvare oh ha rotto i coglioni vediamo chiave no allora vado a fare se posso creare qualche dardo vediamo guarda che c'è 6.000 non posso fare niente con 6.000 quasi quasi farei la durata massima dello scatto se hai dardo non li posso fare congelamento dardo congelamento ok uno l'ho potuto fare se ce l'ho se me l'ha dato guarda guarda qua c'è esplosivi eh no sempre uno ce l'ho ce l'ho sempre uno può salvare guarda qua c'è